Soltanto un punto separa la lupa Piacenza dalla prima promozione dell'era avviata dai fratelli Gatti. Proprio ieri la società bianco-rossa ha ottenuto ciò che tutti quanti auspicavano, la gara con il colorno si disputerà allo Stadio Garilli. Cornice di prestigio dunque per quella che si preannuncia come una festa annunciata da mesi. Si sarebbe dovuto giocare a Ponte dell'Oglio che per diversi turni ha rappresentato una valida alternativa all'impostibilità, vero o presunta, delle società avversarie di ospitare il caloroso tifo piacentino. Anche questo rappresenta un aspetto che presto sarà lasciato alle spalle, visto che la categoria che attende i bianco-rossi può vantare stadi degni di tal nome. Tornando però al match di domani, ufficialmente trattasi di trasferta, quindi non sarà consentito l'ingresso a coloro i quali presenteranno l'abbonamento alla stagione della lupa. Sul campo si profila una formazione che potrebbe ricalcare quella che giovedì scorso ha inflitto al palavicino un secco 3-0. Rientra Tignolssini dalla squalifica mentre Arena potrebbe partire dal primo minuto. Grazie. 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 Grazie.